Dio! Oh guarda! Il postino quanti francoboli ha messo alla Juve? Due, esattamente due. Ma secondo te la Juve non poteva approfittare del fatto che mancassero di Fusco e Cravero per impostare una partita più aggressiva? Bisognerebbe chiederlo a Trapattoni che ha messo anche i difensori nel momento in cui il Milan vinceva già 7-0 e qui perdevano 1-0. Quindi credo che sia un po' la mentalità di questo allenatore che va cambiata. Bisogna fargli un trapianto, togliergli la testa e mettergli un bel vaso di fiori. Ma no, tutto sommato il torino va bene così, no? Che oggi avesse la testa, il vaso di fiori come dici tu perché ha vinto 2-0 il toro. Sì, ci spiace per i cugini, però come diceva un nostro amico, se ti drughi ti spegni.